Questo ragazzo è promettente, c'è poco da dire, c'è un ragazzo che si comporta così, che va in Francia, giunge secondo, ci puoi dire qualcosa in più? Beh, c'è da dire tanto e poco, Leotti sicuramente non lo scopriamo quest'anno, Leotti era uno dei migliori Under-23 nel 2019, è un ragazzo che ha già un contratto World Tour, perché è nella CCC, è rimasto ancora un anno, perché è un terzo anno, lui è in 99, quindi è un terzo anno, è rimasto un altro anno in questa categoria, purtroppo sicuramente non sarebbe immaginato un'annata del genere, e niente, abbiamo investito su di lui, perché è un ragazzo che promette, il nostro obiettivo primario, della prima parte della stagione, era il Tour dell'Avenir, invece queste gare qui non doveva neanche farle, perché la sua squadra andava a fare, data a fare, il Sibio Tour, però c'è stato un po' di problemi, con il suo team manager Bressan Roberto abbiamo pensato che era meglio non rischiare, avete fatto dei problemi a rientro di questi ragazzi che sono andati a correre là, e di conseguenza l'abbiamo inserito nella rappresentativa che era già presente in queste gare, e abbiamo fatto molto bene, l'ha dimostrato che è in grosse condizioni, è un ragazzo che speriamo, speriamo che adesso al Tour dell'Avenir, che è il suo primo obiettivo, di essere competitivi, anche se il livello sarà molto alto.